I carabinieri della compagnia di Urbino hanno denunciato in stato di libertà per truffa ai danni di anziani un trentenne italiano di origini campane, disoccupato e pregiudicato per reati specifici. L'uomo a partire da febbraio 2019 alla guida di autovetture generalmente prese a noleggio da parte di altre persone si recava nel centro cittadino di Urbino avvicinando persone anziane abbordandole con l'ormai ben conosciuta scusa di averle già conosciute in passato e spacciandosi anche come un commerciante di pelletteria ed abbigliamento. Una volta agganciate le vittime in ricordo della vecchia amicizia che vantava di avere con i malcapitati fermati per strada omaggiava questi ultimi con capi di abbigliamento confezionati, spesso giacche, raccontando di aver fatto la stessa cosa anche con altre persone a lui care. E qui scattava la truffa. A fine dell'incontro riusciva a raggirare gli anziani e, a titolo dimostrativo, a farsi consegnare somme di denaro, chiedendo addirittura, nel caso in cui le vittime avessero poca disponibilità di contanti al seguito, di prelevare con il bancomat. Purtroppo per i truffati, solo quando il sedicente commerciante andava via, si accorgevano di aver ricevuto un bel pacco e nient'altro che capi usati e palesemente usurati. I carabinieri della stazione di Urbino, ricevute le denunce dei truffati, hanno sequestrato i capi consegnati alle vittime, accorgendosi così della serialità e del modus operandi messo in pratica e della scarsa manifattura dei vestiti. Le indagini, infatti, che si sono avvalse di testimonianze, riconoscimenti fotografici e visione di impianti di videosorveglianza, hanno permesso di identificare l'autore e procedere così penalmente nei suoi confronti. Sono almeno tre i casi di truffa emersi dalle indagini e il danno recato agli anziani si aggira intorno agli oltre 1000 euro. I carabinieri stanno svolgendo ulteriori accertamenti ed approfondimenti per verificare la commissione di analoghi episodi criminosi e di individuare eventuali complici dell'uomo. Non sempre è semplice comprendere gli elementi che possono far pensare che sia in atto un tentativo di truffa e di conseguenza i comportamenti giusti da tenere in questi casi. Spesso, purtroppo, è la condizione di solitudine e di fragilità della persona che favorisce ed agevola i truffatori. Le cui vittime predilette ancora una volta, purtroppo, sono le persone anziane, con pochi amici e scarse relazioni sociali, con minor prontezza di riflessi o minor conoscenza degli fenomeni di truffe e che quindi possono essere ingannate con maggior facilità.